Sette nuovi agenti nel corpo della polizia locale di Arezzo. I nuovi vigili, una donna e sei uomini provenienti da più parti del paese sono infatti entrati in servizio da oggi. C'è stato un concorso, loro sono i vincitori, quindi vengono assunti. Oggi è il primo giorno di lavoro e quindi c'è parso opportuno salutarli, anche formalmente, augurare loro buon lavoro, augurare loro di integrarsi bene in questa città. Vengono un po' da tutte le parti d'Italia, ci sono dei toscani, ci sono anche degli aretini, ma anche no. Io credo che sono forse giovani, la nostra grande risorsa è quella di riuscire a mettere nel territorio delle persone che abbiano anche forti motivazioni, chi meglio di un giovane può svolgere il ruolo in questo modo. Voglio ricordare che i sette di oggi entrano in ruolo oggi, ma tra breve ne arriveranno altri sei, destinati a un servizio particolare che è quello di vicinato, di prossimità, anzi, come si dice, grazie a un progetto ANCI Regione Toscana che è stato finanziato dalla Regione. Quindi, posso dire, comandante, non abbiamo più scuse. A questo punto la sicurezza reale e percepita deve essere integralmente recuperata e noi ci affidiamo alle loro giovani e forti braccia. Quanto sono importanti questi nuovi agenti per voi? Sono molto importanti per due ragioni. La prima, perché ovviamente numericamente cominciamo ad avere proporzioni che, come ha detto giustamente il Sindaco, non permettono più alcuna giustificazione di sorta. Ma, secondo luogo, anche perché essendo forze giovani portano entusiasmo. Devo dire che già gli innesti che sono avvenuti fino adesso hanno portato dei notevoli vantaggi, dei notevoli progressi. Voglio ricordare semplicemente, a puro titolo di cronaca, che l'altra settimana, durante l'arresto del cittadino che ha causato delle lesioni al collega Frondaroli, assieme all'ispettore Magrini, che come me fa parte dell'elite dei nonni, c'era una delle giovani agenti in servizio presso il comando di Arezzo. Questo per dire quanto è integrata la capacità di intervento di persone che, in fin dei conti, prestano servizio da meno di un anno da noi con il personale più anziano e più, diciamo così, anche votato a certi tipi di intervento.